ciao ragazzi benvenuti a un'altra calcistica puntata di on the matters con mattia e mattia ciao ciao matti come stai? sto abbastanza bene ho fatto il vaccino qualche giorno fa e no ancora non riesco perché tra le conseguenze del vaccino si dice che ti faccia male il braccio ed effettivamente lo dicono anche degli infarti che sia un segno premolito ma penso che il vaccino l'ho fatto qui e mi fa male è proprio controindicazione se ho letto bene potrebbe essere sinonimo di grave grave problema grazie grazie finora sto bene se non mi vedrete alla prossima puntata e cambierà anche il logo on the matters con mattia capirete che vaccinarsi non fa così bene scherzo vaccinatevi prenotatevi e vaccinatevi tutti perché saremo liberi assurdo che ti abbiano fatto vaccinare nonostante tu abbia meno di 25 anni no ma infatti spieghiamo anche questa cosa prima che si creano polemiche non sono caregiver ma come avrai letto e ma e le altre agenzie del farmaco hanno spiegato che fa 0 adesso si può fare anche tra i 12 e i 16 anni quindi io supero di poco quella fascia ma mi hanno chiesto di testarla forse perché hai la maturità perché ho saputo che chi fa la maturità comunque adesso è un insieme di fattori sono tester maturando giovane e quindi mi hanno chiesto di fare un po la portavoce di farmi avanti specificiamolo perché magari qualcuno pensa che tu abbia sfruttato il corridoio del vip capito assolutamente personaggio famoso allora non mi sono vaccinato nella fascia dei trentenni pur non essendoci ancora nemmeno lontanamente avvicinato era importante smarcare questo punto ma abbiamo iniziato dicendo che è una puntata calcistica perché esatto perché venerdì tra cinque giorni iniziano gli europei 2020 e qui finisce la mia conoscenza del calcio quindi amici alla prossima ciao no scherzo perché 2020 perché hanno voluto mantenere lo stesso brand anche perché pensate a ribrandizzare tutti gli sponsor i materiali che è un po quello che è successo anche a tokyo con le olimpiadi milioni di cose quindi hanno deciso di tenere la denominazione 2020 tra l'altro tokyo che rimane comunque molto in bilico perché in giappone non si sta vaccinando nessuno il 5 per cento della popolazione è stato vaccinato quindi da capire sta cosa vedremo dovremmo mandargli il generale figliuolo vedremo ne parleremo magari in una delle pil più avanti visto che staremo in vacanza comunque anche noi comunque sarà un'edizione degli europei partecipata e seguita anche da chi il calcio magari come me non lo segue perché sarà un'edizione storica in qualche modo dal tifoso occasionale esatto esatto si dice no quando quando i tifosi occasionali quelli che vanno allo stadio una volta all'anno tifoso occasionale porti male ok questo non guarderemo insieme le partite ma però c'è da dire una cosa che la nazionale è l'unione dei cuori della passione cioè ti far nazionale non ha colori esatto è ciò che lega tutti noi esatto ciò che lega tutti noi esatto giuventini interisti milanisti gente che si dimenticherà che bonucci ha giocato alla juve e lo tiferà con tutto il cuore gente che si dimenticherà che non lo so ciro immobile gioca la lazio e quindi anche i romanisti potranno esultare gol di ciro immobile cosa assolutamente impensata saremo tutti tifosi della stessa squadra è questo il bello degli azzurri quando gioca degli azzurri azzurri in azzurro perché azzurri subito una chicca c'è uno storico allora la prima discesa in campo della nazionale fu nel 1910 ma in bianco perché non riuscirono a mettersi d'accordo sul colore della maglia quindi davvero usarono un colore neutro pensavo fosse perché la pro vercelli allora che era che aveva prestato le maglie una cosa del genere aveva le maglie bianche esatto ma perché non riuscivano a mettersi d'accordo sul colore invece la vera discesa in campo fu l'anno dopo nel 1911 e il blu perché perché il blu era il blu di casa Savoia il colore preferito dai Savoia che a loro volta si ispiravano siccome erano molto devoti alla madonna si ispiravano al colore del suo velo e quindi tutte le divise erano del colore del regno d'italia esatto esatto molto nazionalistiche no molto e poi non l'hanno più cambiato c'è stata una potrebbe dire che il colore della monarchia no sì qualche qualche riminescenza alla fine l'origine è quella però evidentemente l'affezione che poi si è creata attorno a questo colore simbolico evidentemente è stata perché si è cambiato per un periodo nel periodo del fascismo mussolini impose il colore nero alla maglia della nazionale anche lo stemma mi pare avesse il fascio oltre allo stemma nazionale i facilittori poi una volta che il regime fascista cadde allora ritornò il blu con una piccola eccezione quando nel 49 ci fu la tragedia di superga allora per ricordare il grande torino ed omaggiarlo in quell'anno tutta la nazionale giocò sempre con una fascia nera sul braccio però cazzo hai studiato su questa parte storica questo sono le chicche importanti ma proprio perché la nazionale è fatta di valori di icone di simboli cioè non è mai possibile scendere la nazionale da alcuni alcuni valori c'è una responsabilità sociale non indifferente che hanno i calciatori quando giocano quando indossano quella maglia oggettivamente rappresentano l'italia ma nel più complesso dei dei temi no il valore dell'essere italiano come dici tu è vero è vero è assolutamente così c'è da dire anche una cosa però proprio entrando nel tema europei che in realtà noi non è che abbiamo questa grande storia all'interno del panorama europeo perché perché per le prime quattro edizioni dal 1960 a di 10 anni su 12 anni successivi non ci siamo qualificati tanto per iniziare abbiamo partecipato abbiamo vinto quindi ci alleniamo tanto per arrivare poi abbiamo vinto ma in realtà se non ricordo male anche col mondiale fu così il mondiale del 38 che è stato il secondo mondiale se non ricordo nel primo noi non partecipammo perché era su invito venimmo invitati nella seconda edizione e la vincemmo c'erano una manciata di squadre anche nelle prime edizioni degli europei in realtà c'erano poche squadre perché l'europa sostanzialmente non aveva tutte queste nazioni pensa all'unione sovietica cinque paesi sono creati pensa a cecoslovacchia ci sono scinti due paesi c'è stato tutto scinti no scissi ma concediamoci delle libertà poetiche è bello è bello sì ma come dici tu è vero la storia dell'italia all'europea non è stata fortunata soprattutto negli ultimi anni perché si ha giocato se non sbaglio nel 2016 nel 2018 non si è qualificata nel 2020 ci sono state le 2016 e 2018 ogni due anni no perché se no no uno era un mondiale sì parlo del mondiale al mondiale non ci siamo non ci siamo qualificati no l'europeo vedete che non sono fortissimo su questa parte ma l'europeo migliore recente che abbiamo fatto è quello del 2012 quando allenava cesare brandelli ecco ecco cammino perfetto fino alla finale in finale nabba tosta un 4 a 0 dalla spagna che ancora se lo ricordano quando parlavo di simboli cosa successe in quella partita sul 4 a 0 l'arbitro ha dato 4 minuti di recupero casillas portiere della spagna si rivolse all'arbitro e disse arbitro rispetto non c'è bisogno di per di dare 4 minuti di recupero noi eravamo già distrutti dalla vita una serie di infortuni in quella partita proprio andò malissimo casillas portiere dell'altra squadra capitano della spagna chiese all'arbitro di farla finita lì che è un gesto di rispetto che si fa anche nelle partite tra club come dire fatela finita quindi comunque c'è stata questa diciamo così questa questa piacevole gesto da parte dei vincitori nei confronti poi dei vinti fair play no per lo spirito sportivo che esce anche nelle grandi competizioni e sono questi un po i simboli che rappresentano l'esempio no ma ci sono i bei ricordi degli scontri tra le nazionali certo poi ci sono anche quelli dei rivali storici se pensiamo all'italia per esempio con la francia con la francia un conto aperto a favore nostro a favore nostro però è un conto aperto con la germania non ne parliamo forse già da prima già la germania ovest beh tra l'altro adesso faccio un altro piccolo cenno storico ma se non sbaglio l'italia è sicuramente poi magari ripercorriamo il percorso tra le squadre più più titolate di quelle nelle varie competizioni ma proprio nel 1936 l'italia fu medaglia d'oro alle olimpiadi quando in quegli anni durante i giochi olimpici si erano aperti anche alle squadre calcistiche nel 1936 a berlino l'italia vinse vinse la medaglia d'oro quindi fu a tra tra i tanti titoli che ha conquistato ci fu anche quello olimpico si può freggiare di questo di questo titolo no sì sì sicuramente ecco per non è il titolo olimpico vale vale un po di meno a livello di significato perché è una competizione un po diversa ma anche perché poi non c'è tanto il calcio esatto esatto per fortuna mi viene da dire perché secondo me aveva poco senso cioè il calcio è lo sport più seguito non aveva senso se non mai buttarlo dentro l'olimpia ma infatti mi ricordo che mentre il calcio magari lo seguo meno però le olimpiadi anche lì mi appassionano di più e mi ricordo che nelle ultime nelle ultime edizioni in cui si si giocava calcio me lo ricordo un po come anche delle partite noiose in realtà non non prendevano con quel sì sì se pensi non solo sport non so la partita della nazionale di pallavolo alle olimpiadi per esempio secondo me sono molto più avvincenti molto più più caratteristiche non so come dirti comunque questo per dire che comunque sì la nazionale italiana ha dei trascorsi che non sono solo mondiali questo è un po un po il fulcro del discorso ci sono chiaramente dei personaggi che hanno scritto la storia della nazionale a quindi della nazionale maggiore più di altri sapresti dirmi tu chi è il calciatore con più presenze con la maglia azzurra credo di averlo letto è buffon è gg buffon perché ho letto che non solo come presenza in nazionale ma anche come presenza in nazionale come capitano della nazionale come capitano anche della nazionale tra quelli più recenti sì e tra l'altro ha fatto anche un discreto numero di presenze lo leggo qui 176 ha fatto zero gol va beh beh è un portiere giusto è un portiere ma non sottovalutare ci sono episodi di portieri che hanno segnato proprio con le nazionali perché avevano magari il piede particolarmente buono gli facevano battere i rigori è una tradizione più delle nazionali sudamericane ok tipo te lo cito tu sai chi è Cillavert portiere paraguaiano portiere paraguaiano che ha segnato tipo 25 gol in carriera nelle competizioni con la nazionale roba spettacolare fuori classe sì era un off topic per dire che ci sono stati anche questi casi bellissimi il secondo è fabio cannavaro pallone d'oro nel 2007 io lui me lo ricordo bene quando ha sollevato la coppa ai mondiali del 2006 è il tuo preferito è tra i miei preferiti sì 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 assolutamente ma sei di quell'episodio di quel mondiale mi ricordo un aneddoto personale perché lo guardavo con i miei amici abbiamo guardato la finale con i miei amici e poi come tutta l'italia no non ero in vacanza ero ero a casa mia quindi 9 luglio 9 luglio bravo e eravamo tutti insieme quindi quando ha vinto abbiamo deciso di uscire a festeggiare come tutto il resto d'italia no quindi usciamo il mio amico davide aveva la macchina più grande aveva un land rover gigantesco quindi siamo saliti in 14 e abbiamo iniziato a festeggiare quando siamo arrivati nel centro del paese ci siamo accordi che tutti ci insultavano e bastardi crocchi dopo mettiamo il bip scusate aveva la targa aveva la targa tedesca poi abbiamo capito allora abbiamo tirato fuori le bandiere abbiamo detto no ma siamo italiani però devo dirti ho avuto un po' di paura all'inizio te lo giuro da indagare perché lui avesse la targa tedesca no perché era una macchina della società del papà insomma e quindi aveva la marca ma ce ne siamo resi conto dopo esserci presi milioni di insulti pazzesco no ma lieri schiato veramente per esempio io ero in calabria se avessi fatto una cosa del genere in calabria e tu sottovaluti in calabria è pieno di targa tedesca perché ci sono un sacco di migranti italiani emigrati italiani in germania che poi tornano a casa quindi se tu vai giù nella profonda calabria è pieno di targa tedesca non saresti qui con me in questo momento no vabbè però sai un po' per questo sanno che sono sempre tutti loro vabbè poi si parlano si capiscono subito comunque parliamo torniamo sul discorso delle icone della della nazionale perché ci sono icone che hanno fatto i record cannavaro buffone eccetera eccetera gente anche che ha segnato tanti tanti gol te lo ricordi il capo cannoniere della nazionale chi era no non me lo ricordo matti raccontami la storia gg riva gg riva campione legato al cagliari per non so se lo sapevi però legato alla storia del cagliari in maniera una figura storica perché cos'erano anni 70 vero si 60 70 lui era era anche nella diciamo così nel gruppo squadra gruppo societario che andò poi a berlino nel 2006 quindi faceva parte comunque della commissione della nazionale diciamo così dopo di lui giuseppe meazza diciamo 35 gol gg riva sì tanti ma cioè rispetto ai record di gol che siamo abituati cioè 35 gol li fai in un campionato paradossalmente quindi per segnare 35 gol comunque ci vogliono un sacco di di partite lui fece 42 presenze neanche tantissime 42 partite 35 gol è la matematica una media una media incredibile che non è quella migliore di tutti perché la media migliore ce l'ha e questo lo leggo perché non me lo ricordavo c'è la silvio piola che 30 gol in 34 partite quasi una partita in media capito consideriamo che una volta la nazionale non giocava tanto spesso come oggi e quindi oggi è un po più facile in realtà arrivare se avessimo degli attaccanti che segnano perché non è proprio l'anno degli attaccanti ultimamente comunque scendendo un po nella classifica che avevo visto anch'io c'è un altro dei miei preferiti al quarto posto che è roberto baggio il divin codino anche lui una figura per chi segue il calcio non assiduamente saltariamente comunque una figura storica del calcio è iconica lui proprio lui incredibile l'hai visto divin codino su net non l'ho ancora visto ma è uno di quei film che vorrei vedere molto l'hai visto l'ho visto ti dico non racconta al baggio calciatore racconta al baggio uomo un pochettino di più poi lui è legato a questa sua questa narrazione di se stesso lui è buddista no certo divenne buddista proprio durante la giovane età vent'anni proprio a cavallo di un passaggio tra la serie c la serie a quando andò a giocare la fiorentina divenne buddista perché aveva avuto questa crisi interiore poi da lì abbracciò la filosofia fino a tutta la carriera ma infatti ho letto delle interviste che lui ha fatto in occasione proprio del rilascio di questo film su netflix dove dice che la spiritualità l'ha aiutato in tante occasioni difficili della sua vita no come nel 1994 quando sbagliò al rigore quindi l'italia non perse il mondiale esatto perdemmo il mondiale con il rigore di baggio e lì hai cioè mi rendo conto della tensione della pressione poi di tutta le conseguenze che ti porti dietro voglio dire tutto il mondo ti sta guardando la tua squadra dipende da te e quindi non deve essere facile anche superare un trauma del genere è una cosa che ti porti avanti per tutta la vita assolutamente anche perché poi e in questo ecco il fin che esce secondo me lo spiega bene senza spoilerare niente perché è storia della carriera di baggio lui non andò poi al mondiale del 2002 perché subì un infortunio pochi mesi prima cercò di recuperare nella maniera più veloce possibile ma di fatto poi tra pattoni non lo convocò per tanti sbagliando per altri dicono non era in condizione non si può portare al mondiale un giocatore che non è in condizione quando hai altre scelte lui comunque era già grandicello perché la sua carriera finì due anni dopo nel 2004 in una partita milan brescia dove ci fu un'ovazione totale di tutto san siro per per lui l'ultimo suo allenatore fu carlo mazzone che è un'altra icona storica del calcio ancora adesso i meme di fatto poi roberto baggio è rimasta una figura iconica del calcio no sia per il modo di affrontare le partite che il pallone d'oro comunque anche lui è uno dei pochissimi italiani che ha vinto il pallone d'oro insieme per dire a cannavaro ea paolo rossi e quindi sì sicuramente ha scritto la storia del calcio in qualche modo e poi è rimasto anche iconico per il suo stile non codino si è anche nel 94 è uno stile che nacque nel 94 si è questa cosa è bellissima non viene raccontato all'interno del tu la sai si l'ho letta con me spero sia vera in realtà perché non ho la certezza la fonte era editoriale quindi da capire leggende metropolitane che nascono era nel hotel con la nazionale lì in america durante i mondiali c'era una detta delle pulizie di colore che aveva questo stile con le treccine afro lui la fissava la fissava e lei gli ha detto se ti piacciono su te le faccio e gliele ha fatte e poi le ha tenuti e da lì codino siccome erano centrali qua dietro la nuca da lì è nato il codino e da lì poi se le ha tenuto pensa te se lei avesse depositato i diritti su questa cosa sarebbe miliardaria adesso ma allora lui era uno che credeva nel karma quindi magari poi un give back verso di lei l'ha anche l'ha anche dato può essere l'ha reso di fatto un po' celebre la miseria un po scusate adesso poi chiudiamo l'argomento roberto baggio ma holly e benji c'è presente tu lo sai che c'è una puntata in cui c'è roberto baggio no questo non lo sapevo io ero appassionatissimo cercatela su youtube ve la lasciamo anche linkata c'è una puntata di holly e benji dove c'è roberto baggio che incontra holly veramente sì sì che contro holly veratto giuro non sto scherzando all'aeroporto io ho gli e benji sono cresciuto guardando c'è una puntata con roberto baggio proprio non me lo ricordo quindi è veramente cioè entrato nella storia è una consacrazione quella o entri nei simpson o in holly e benji ma tu immagina poi era un cartone che ha avuto un successo planetario certo incredibile fantastico voglio andare a cercarlo quasi subito dopo andiamo alla fine volevamo concentrarci sulla nazionale alla fine vedi poi il romanticismo il romanticismo ti porta e ti lega poi a quelle figure che che sono i tuoi migliori ricordi ai ricordi della tua vita i passaggi storici che ci sono stati qual è il tuo ricordo top legato legato alla nazionale e beh sicuramente quello che ti dicevo prima nel 2006 quando c'è stato quando cannavaro alzato la coppa e lì è stato veramente uno dei momenti in cui ero contento non da tifoso che è stato un bel momento da perché lo condividevo con gli amici e poi quando sono uscito c'erano tutte le persone per strada è stato un momento di unione veramente ero proprio contento quella sera grandi emozioni io ti devo essere sincero non il migliori tu matti sei un tifoso vero quindi no ma il discorso è che la nazionale è un tifo diverso cioè un tifo diverso non è lo stesso amore lo stesso legame che hai per la per la squadra di club con cui tutte le domeniche tutte le domeniche tifi io ho un ricordo in prace per me l'icona l'immagine iconica della nazionale paradossalmente è una scena orribile che è l'espulsione di francesco totti mondiale 2002 da bayron moreno che lo espelle per per proteste dopo una munizione e e lì perdemmo la partita clamorosa ma sai che lo ricordo anch'io moreno quello quello è stato quell'immagine di francesco totti espulso perché quello per me è stato il male assoluto del calcio un'ingiustizia incredibile non sono mai riuscito a digerirla sportivamente parlando forse il mio essere interista un po anche la fa parte di questi sentimenti che ci sentiamo sempre derubati no di fronte a una juve padrone queste cose queste storielle qual è il cavolo però forse un po anche questo mi ricordo cioè sento più miei momenti di sofferenza dei momenti della vittoria non so perché però hai ragione perché quest'ingiustizia dell'arbitro moreno ce la portiamo dietro tutti in qualche modo perché c'era stata una rivolta popolare mi ricordo anche politici istituzioni erano insorti contro questa cosa vabbè erano i mondiali in casa della corea è stato un altro momento che ci ha uniti tutti quanti sì nell'odio nell'odio esatto a volte è anche più forte è anche più forte a voglia a voglia a voglia no sì sì quindi prepariamoci a tifare la nazionale a questo punto la prima partita preparateci preparatevi meglio di noi che come vedete non abbiamo addobbato niente ma per scaramanzia lo diciamo solo solo per scaramanzia perché in realtà siamo molto preparati siamo anche pronti a salire sul carro assolutamente quando sarà la prima partita è un 11 giugno con turchia turchia se non sbaglio sì 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 o svizzera no 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 credo turchia turchia poi svizzera poi galle in italia peraltro perché è una delle particolarità di questo europeo è che sarà un europeo itinerante proprio per celebrare i 60 anni di questa manifestazione si è deciso di farlo sì tra l'altro iniziamo con tre partite in casa di fatto perché tre partite in italia speriamo che questo possa essere un fattore esatto quindi facciamo il tifo insieme fate il tifo con noi noi impiegheremo tutti noi stessi nel tifo per la nostra nazionale certo vi diamo appuntamento alla prossima settimana continuate a seguirci come state facendo giorno dopo giorno mettete like mi raccomando attivate le notifiche sempre condividete i nostri contenuti e noi ci vediamo presto ciao